Un organico ammetà quello del comune di Chieti, lo dicono i numeri di amministrativi e polizia locale, ma l'amministrazione Ferrara mette la quarta all'inizio dell'anno e dà un segnale importante ai cittadini. Dovremmo avere più di 400 persone dipendenti tra impiegati, funzionari e dirigenti. Ne abbiamo 180 e purtroppo quest'anno andranno in pensione altri dipendenti. Attualmente abbiamo impiegato l'Istituto della Mobilità e abbiamo acquisito 11 persone tra funzionari, un dirigente a tempo indeterminato, due agenti di polizia, tre funzionari amministrativi in settori strategici e altri funzionari di categoria C. Per cui pur essendo una goccia nel mare sicuramente saranno essenziali e fondamentali per un miglior funzionamento dell'amministrazione. Per il 2023 abbiamo in programma di fare altre 40 assunzioni. Per quanto riguarda i fondi, cioè le risorse che serviranno ovviamente per coprire i costi del nuovo personale? I fondi vengono dal bilancio, dal bilancio previsionale e pertanto il bilancio previsionale che andremo, io spero, nel più breve tempo possibile. Ho dato ai miei uffici un tempo fino a marzo 2023 per evitare, come è stato fatto in tanti anni, di arrivare con l'acqua alla gola a fine primavera, inizi dell'estate. Quindi vorrò che il bilancio previsionale sia approvato nel più breve tempo possibile e pertanto si riuscirà a trovare risorse per queste altre assunzioni. Certo saranno comunque sempre al di sotto delle necessità, ma intanto cominciamo a far arrivare al Comune di Chieti persone giovani, competenti, che daranno linfa ed entusiasmo maggiori.